Dopo 5 anni di intenso lavoro a Cesena, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cesena, Diego Polio, classe 77, lascia la città. Il maggiore con alle spalle importante operazione andrà a Bologna, laddove a partire dalla prossima settimana avrà un nuovo incarico. Sono stati 5 anni ricchi di soddisfazioni, sia umane che professionale, umane per l'accoglienza squisita tipica del territorio romagnolo e che mi ha fatto sentire veramente a casa. Professionali perché questo è un territorio comunque complesso, da un'economia molto dinamica e che ha necessitato di un impegno costante da parte mia e dei miei uomini. Sulla lotta alla droga, sulla lotta agli reatti di tipo ambientale abbiamo avuto dei buoni successi con delle buone operazioni. Lei se ne andrà verso quale città adesso? Mi aspetta una nuova esperienza al capoluogo, quindi a Bologna, dove andrò ad assumere il comando del nucleo investigativo. Chi verrà a posto suo qua a Cesena? Sta arrivando il capitano Fabio Di Benedetto che attualmente comanda la compagnia di Gioia del Colle e che quindi avrà la sua seconda esperienza di comando di una compagnia. È un ragazzo di 40 anni, sposato e che è di origine siciliana e che già ha avuto esperienza diciamo romagnola poiché ha comandato da tenente il nucleo operativo radiomobile di Riccione. Grazie. Grazie. Grazie a tutti